Ciao, mi chiamo Alice Ciavatta e ho 25 anni e frequento il primo anno dell'Istituto per la Conservazione e il Restauro di Roma e vengo da Roma. Allora, questo è il mio primo cantiere, è la mia prima esperienza diretta e ci svegliamo tutti i giorni alle 7, attacchiamo alle 8 fino alle 5 del pomeriggio e ovviamente sui libri noi abbiamo imparato solamente la teoria, molta chimica, mentre qui è quasi esclusivamente pratica e per noi è molto importante quindi avere manualità con i vari strumenti, i bisturi, imparare a fare le varie soluzioni che ci servono e quindi diciamo mi sto trovando molto bene, ovviamente sono esperienze che a noi servono per un futuro. Non è la mia prima volta che mi trovo a Bologna, sono già venuta altre volte, è una città che amo moltissimo, è molto giovanile, è piena di bellissimi monumenti, musei, molto diciamo vivibile, diversissima da Roma che è totalmente l'opposto di questa bellissima città, tornerò presto perché è una città che io amo moltissimo, amo i bolognesi, la loro cucina, tutto quanto e sono stati tutti molto carini con noi, ci hanno trattati tutti benissimo. Grazie a tutti.